Come ti ha toccato le tette? Tipo... Poppy, Poppy? Non ha 13 anni, è il capo di chirurgia. Beh, scusa tanto, non so come tocca le tette il capo di chirurgia, ma è stata una cosa di striscio, tipo sul lato della tetta. Eter! Fammi vedere come! No! Era... Guarda! È stato così? No, è stato come una carezza sul corpo. Sì. Murphy, andiamo. Abbiamo una ricostruzione del volto. Sì, anch'io devo andare. Lavoro col dottor Shepard. Credo che oggi ricominci sul serio ad operare. Ne saremo tutti felici e contenti. Io ho il post-operatorio con la Young. Io sto sulla Gray. Con la Gray. Sulla Gray, sembra. Dottor Avery, io ho solo routine. Le dispiace se vengo con voi? Non lo so. No, certo, vieni. Una domanda veloce sul caso. Sei stato bravo. Ti sono piaciuto? Bella mossa scegliere la Murphy, no? E farmi chiedere di venire con voi. Capisci che è nell'interesse di entrambi essere discreti. Tranquillo. Credi che voglia che pensino che assisto agli interventi perché vado a letto col capo? Voglio farlo. Per le mie capacità. No, è vero, perché tu sei estremamente capace. Ed è così che hanno inventato lo shot. Molto interessante. Già. No, è vero, perché tu sei estremamente capace. Istvieno, è vero, perché non è vero, perché tu sei sei che il tuo condito, è vero.